Il suono di un violino, l'emozione tra i volti dei presenti, il silenzio composto, poi un applauso per la scoperta di una targa. Sono questi i momenti vissuti lunedì sera durante la cerimonia di intitolazione del ponte ciclopedonale dell'Arzilla a Pierluigi Ricci. Il fanese da tutti conosciuto come Bigio, molto noto in città per le sue attività commerciali, scomparso il 7 agosto 2017 all'età di 57 anni, dopo aver salvato una famiglia dal mare in Burrasca, a Torrette di Fano. Esattamente sei anni dopo, il riconoscimento da parte dell'amministrazione comunale ha seguito delle centinaia di consensi raccolti, affinché il gesto di Bigio resti per sempre nei cuori e nella memoria collettiva. Presenti alla cerimonia il sindaco Seri, gli assessori comunali e regionali, le autorità militari, i familiari e i tanti amici che hanno voluto omaggiare il bagnino eroe dal cuore buono e coraggioso. Sì, Nicolai ha detto che questo è un ponte che unisce. Sì, intanto questo è un momento di forte partecipazione, di forte sentimento, è un momento per ricordare Pierluigi Ricci, detto Bigio per gli amici, ma per tutti conosciuti come Bigio, è un momento per ricordare un gesto straordinario, quello di sacrificare la propria vita per altri che stavano rischiandola loro. Ed è un messaggio forte perché in quelle situazioni di pericolo uno non si preoccupa della propria incolumità, ma fa di tutto per salvare altre persone. In questo caso le ha salvate, ma lui purtroppo ha perso la sua vita. E allora una comunità questi momenti li deve ricordare, deve mantenerli forti. Il ponte ha tanti significati, intanto è un ponte collega, unisce, e quindi è un modo per pensare che ci unisce noi qui dalla terra e con Bigio che ci guarda dall'alto. È un ponte che unisce le spiagge, e quindi le spiagge è l'attività del bagnino per tutelare la sicurezza dei bagnanti. Ma soprattutto vuole essere anche un monito, un richiamo al rispetto, al rispetto della natura, del mare, e quando ci sono delle regole di rispettare bisogna rispettarle. Penso un gesto di un valore così grande, più grande non ci sia. A ricordarlo tra gli altri il figlio Giovanni e l'amico di sempre Enzo Maggi. Una giornata simbolica che rimane nel segno, rimane nel cuore indelebile di Fano e nel mare di Fano. Lei invece, Enzo, lavorava con Bigio? Sì, eravamo colleghi, e come dice Giovi, questa giornata non serve solo a ricordare per il discorso del ponte, ma per far rimanere un messaggio importante su quello che ha dedicato Bigio la vita per salvare altre persone. Le regole sono fatte per rispettarle, se tu le rispetti riesci a sopravvivere, specialmente in un ambiente che è il nostro, che è l'acqua, io parlo per il discorso del savattaggio acquatico. Se rispettiamo le regole non vi fate male voi e non ci facciamo male noi che veniamo a soccorrere voi. Bigio ha sacrificato la sua vita con un gesto, non dico eroico, però un gesto straordinario, dove ha messo veramente la sua vita in pericolo ed è morto purtroppo per salvare altre persone. Se evitiamo di avere questi atteggiamenti da supereroi, andiamo a fare il bagno quando c'è il mare mosso, c'è la bandiera rossa, a meno che non siete, come ho detto l'altra volta nel 2017, non siete gente di mare, gente che ci va spesso in mare e sapete come prendere il mare, evitiamo di metterci in pericolo e mettere in pericolo i soccorritori che ci vengono a dare la mano.